Una vittoria di grande valore, quella del campo basso ai danni del Pineto. Tutti i gol nel primo tempo. A seguire una ripresa in cui l'iniziativa è passata nelle mani degli abruzzesi che tuttavia si rendono seriamente pericolosi realmente, solo in una circostanza. Da valutare gli infortuni nei rosso-blu di Esposito e Dalmazzi, dirige il signor Canci di Carrara. Dopo due minuti il tiro di Vitali è bloccato da Mercorelli. Il Pineto dimostra buona organizzazione ma capitola già al nono quando è Ladu a lanciare la corsa di Cogliati. Nessuno dei celesti è in grado di fermare l'attaccante rosso-blu il quale è stesso in area da Mercorelli. Si prosegue con la palla che giunge a Vitali. Un gioco da ragazzi. Il suo quarto gol stagionale. Rosso-blu avanti subito. Il bis potrebbe essere servito già al quattordicesimo quando i celesti perdono palla. Recupera il campo basso che va al tiro con Ladu. Para Mercorelli senza trattenere. Risposta ospite al quarto d'ora con un angolo battuto da Romano. Sfiorato da Della Quercia. Al centro c'è un contatto fra Tengorang ed Esposito. I giocatori ospiti vogliono a gran voce il calcio di rigore ma non vengono accontentati dal direttore di gara. Il Pineto non si sfalda rispetto allo svantaggio. Al diciottesimo il tiro di Della Quercia costringe Raccichini al tuffo. Il Pineto mantiene il possesso pala. Il campo basso colpisce ed è letale. Succede al ventisettesimo quando Esposito a sinistra indovina un passaggio a dir poco illuminante per la corrente Ladu che ha tempo e spazio per amministrare la sfera e recapitarla alle spalle di Mercorelli. Campo basso due, Pineto zero. Qualche minuto dopo il gol, Esposito in possesso palla. Sente un dolore al ginocchio e si ferma. Nel giro di tre minuti Cudini provvede al cambio. Fuori Vittorio Esposito dentro di Domenico Antonio. Per lui si sospetta un infortunio al ginocchio. Mentre al trentaduesimo il destro di Mastrippolito del Pineto termina abbondantemente al lato. Il campo basso sa quando poter colpire al trentanovesimo la girata di Cogliate appena in area. È di una precisione estrema ma finisce per accarezzare la parte alta della traversa. Sfiorato il Tris. Il Pineto mai fuori dalla gara. Al quarantunesimo riapre la contesa con un calcio di punizione distante. Dimmi Nozzi. Non perfetto Raccichini. Abruzzesi in rete. Termina così la prima frazione. Due a uno per la squadra di Cudini. Pomante del Pineto decide il primo cambio. Dal primo del secondo tempo dentro Ciarcelluti. Al posto dell'argentino Cernaz. Abbastanza evanescente. Il Pineto tiene costantemente il possesso del pallone. Ma succede poco in fatto di cronaca. Provarci al diciannovesimo. E Pepe dalla distanza con tuffo di Raccichini. Il campo basso fa fatica ad uscire a farsi pericoloso. Mentre al ventiquattresimo infortunio per Francesco. Esposito del Pineto. Da come si agitano i presenti? Sembra si tratti di qualcosa di grave. Deve entrare al suo posto. Dal ventiseiesimo. Bumba. Il giocatore rimedierà un infortunio abbastanza serio. Al braccio. Nel campo basso fuori. L'infortunato dal Mazzi. Dal trentacinquesimo. Dentro Sbardella. I rosso blu si abbassano pericolosamente. Al trentaseiesimo. Un rimpallo premia Romano. Che va al tiro. Ma Raccichini respinge molto bene. Al trentottesimo. Lo stesso Mbouma. Ha un'iniziativa a sinistra. Cade Fabriani. Sbardella è costretto a sventare. Trenta secondi dopo. E lo stesso Sbardella ad intercettare un cross. Raccichini è costretto a bloccare per evitare guai peggiori. Il tiro del quarantunesimo. Didi Domenico Antonio finisce fuori. Senza problemi per Mercorelli. Il signor Canci assegna cinque minuti di recupero. nei quali i rosso blu sono bravi a riappropriarsi del pallino del gioco. Prova ne è. Una sforbiciata spettacolare di Vitali. Al quarantasettesimo. Su cui Mercorelli si supera. Finisce con la fondamentale vittoria del Campobasso. In ottica primato. Ai danni di un valido avversario. Come il Pineto. Può partire la festa dei rosso blu. Che si proiettano al primo posto. A più cinque sulla seconda. In attesa del recupero del notarisco. Proprio contro il Pineto.